È ufficialmente iniziata stamani con la presentazione dei simboli la corsa alle elezioni per il 25 settembre. C'è tempo fino alle ore 16 di domenica, ma è oggi il giorno clou, perché l'ordine sulla scheda sarà lo stesso dell'ordine di deposito. Per questo già alle 8 stamattina c'era una lunga coda davanti al Viminale. I primi tre a depositare il simbolo sono stati il Partito Liberale Italiano, il MAIE, Movimento Associativo Italiano all'estero, e il Sacro Romano Impero Cattolico e Pacifista. Consegnato tra i primi anche il simbolo del neonato Terzo Polo, che ha azione e Italia Viva al suo interno, il nome di Calenda, frontrunner della campagna elettorale, e in basso il nome del gruppo europeo Renew Europe. C'è poi stato quello del centrodestra, con i simboli dei tre partiti, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, al suo interno. Era già stato reso noto anche il simbolo del PD, tra i pochissimi, a non avere il nome del leader al suo interno. Il contrassegno di lista deve essere consegnato a mano, su supporto digitale, o in triplice esemplare in forma cartacea. È vietato presentare simboli che riproducono immagini o soggetti religiosi. Ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici, è vietato presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri. Insomma, non ci devono essere doppioni. Vietato inoltre presentare contrassegni che fanno riferimento a ideologie di stampo fascista o nazista. Questa sarà la prima scrematura. Poi, il 21 e 22 agosto, dovranno essere presentate le liste con le firme raccolte. È esentato chi ha costituito almeno un gruppo parlamentare entro il 31 dicembre scorso, o chi ha presentato il proprio contrassegno alle ultime elezioni politiche o europee. Praticamente tutti big, insomma. La raccolta firme sarà invece un'ulteriore scrematura per i più piccoli, perché sono tante e perché si può firmare solo nel proprio territorio, non dalla spiaggia per intendersi. Tornando ai simboli, passati gli anni di asinelli, api, ulivi e margherite, la flora e la fauna hanno ormai lasciato il posto ai cerchi. Cerchi di partiti dentro altri cerchi di coalizioni. Vedremo chi il 25 settembre riuscirà a trovarne la quadratura.